Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per mercoledì 3 marzo, insiste ormai sull'Italia l'anticircolo nord africano che è presente sull'Italia e sull'Europa ormai da circa due settimane, quindi con l'anticircolo nord africano ovviamente avremo il solito tempo diciamo sì bello, ma come vedete ci saranno delle nebbie sul Basso Veneto, sull'est della Lombardia sul Ferrarese, sono previste deboli gelati nelle zone interne del centro nord e con valori intorno a 0 gradi, le temperature saranno senz'altro minori di quello che abbiamo visto nell'ultima parte di febbraio, valori massimi intorno 10-13 gradi sulla regione adriatiche, 13-15 sul resto dell'Italia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.